Buongiorno, sono Cecilia Barilli, sono avvocato. Oggi nell'ambito della giornata ho affrontato il tema della gestione dei conflitti nella contabilizzazione obbligatoria, lanciando l'idea insieme ad AES di una stanza di soluzione dei conflitti, per cercare di portare uno strumento a vantaggio dei cittadini, degli amministratori di condominio, per evitare il nascere, il sorgere e magari anche il continuare. Conflitti esistenti che possono generare, possono nascere da questa applicazione della nuova normativa in materia di contabilizzazione obbligatoria. Sono Mauro Bignardi, Presidente Provinciale NACI di Modena, qui oggi alla settimana della biodilizia per affrontare il tema del ricepimento della Direttiva Europea 2012-27 UE per quanto riguarda l'efficientamento degli edifici e le prospettive che l'installazione degli sistemi di termoregolazione e contabilizzazione possono dare per uno sviluppo dei fabbricati condominali. Sposo totalmente l'idea della stanza di risoluzione dei conflitti perché credo che l'alternativa sia proprio quella di andare sempre più spesso in tribunale a gestire delle situazioni che ormai purtroppo sono già perse in partenza. Quindi benvenga questa nuova iniziativa di AS, benvenga questa nuova iniziativa di professionisti che comunque collaborano tra di loro per cercare di ottenere un risultato comune, un buon risultato comune per cui insomma vediamo di andare tutti in questa direzione.